Salve a tutti da Arpapi, in questo periodo natalizio, periodo di feste, spesso si va in giro e si trovano presepi, ci sono presepi piccoli come quello che c'è a casa del Papi, ma ci sono anche presepi più grandi, un po' più grandi rispetto a quelli normali. Quante volte guardando uno di questi presepi non ci è venuto in mente di farsi una passeggiata in un presepe, oggi siamo in un paesino gallicano nel Lazio che sembra veramente un piccolo presepe, volevo farlo vedere proprio a tutti e fare una passeggiata parlando piano perché se no si svegliano tutti in questo splendido paesino. In Italia troviamo tanti bei posti che ci fanno capire che tante volte il tempo si è affermato, almeno in questi posti, gallicano, vicolo dell'oratorio, tutto davvero molto caratteristico, finestrelle piccole, scalette, piccole discese, tutto questo è questo splendido paesino. Ovviamente è curato anche ai minimi particolari perché c'è soppiante, prima qui c'era anche un bel gattone bianco che la signora ha provveduto ad aprire la porta e farlo entrare, quindi notiamo anche che ci sono persone che amano gli animali e qui continuiamo con Vicolo Santa Rita, sembra di passeggiare davvero in un piccolo presepe. Parlare delle fioriere attaccate ai muri, queste in città si vedono, si possono vedere solamente nei paesini e noi le testimoniamo per voi. C'è sempre una decisione da prendere, guardate le finestrelle piccole con i vasi, troppo troppo carine, una decolina piccolina, una decisione da prendere sinistra o destra, qui si passa sotto un'altra archetta e sicuramente si arriva nella via principale dove poi c'è anche la chiesa, guardate dov'è, bellissimo, una passeggiata dentro un piccolo presepe. Si sale, si scende, si sale, si scende, bellissimo, bello, 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 si gira tutte le parti, i particolari sono quelli che fanno la differenza. Calicano, nel Lazio, tutti i balconcini, stradine piccole, porticine grandi, porticine piccole, stradine, archetti e tutto questo è la nostra passeggiata in questa giornata. Per chiudere questa passeggiata avevamo due possibilità, quella di farvi vedere o il comune o la chiesa, ma abbiamo deciso per la chiesa che forse è la cosa più interessante. Questa è dedicata a Sant'Andrea Apostolo e così chiudiamo la nostra passeggiata in questo paesino. Piano senza disturbare la quiete di questo paesino, Calicano nel Lazio vi ha portato a fare una bella passeggiata in quelle che sono le bellezze della nostra Italia. Calicano nel Lazio vi ha portato a fare una bella passeggiata in questo paesino, Calicano nel Lazio vi ha portato a fare una bella passeggiata in questo paesino.